Dispersione scolastica oggi al 19%, ma cresce anche il numero dei NIT, ovvero di coloro che non studiano e non lavorano. Sono i dati emersi nel corso del workshop sui patti educativi di comunità, con esperti, associazioni e istituzioni, confronto a più voci dedicato agli adolescenti con attenzione alle esigenze del territorio sannita che si è svolto nell'auditorium della Spina Verde al Rione Libertà a Benevento. Perché si diventi patto? Ognuno di noi sa che si prende carico di ogni singolo adolescente che ha rischio di dispersione scolastica. Per fare questo dobbiamo sapere che il terzo settore, le scuole, le politiche sociali e in qualche modo anche le stesse urbanistiche devono lavorare insieme. Iniziativa già sperimentata durante il lockdown. Chi non aveva un computer o chi non aveva uno spazio vitale per poter studiare bene, mi ha messo nelle stesse condizioni di chi invece aveva un computer, aveva una connessione e aveva anche uno spazio vitale. Ora bisogna continuare con tutti i ragazzi in difficoltà. Ma Moretti precisa. Cioè il livello della dispersione che è intorno al 19%, ma anche quello dei famosi NIT, cioè i ragazzi che non cercano più né un'attività formativa né un'attività di lavoro. Un fenomeno diffuso soprattutto in alcune regioni del sud. La dispersione scolastica quindi è un fenomeno che accompagna il nostro paese e grava particolarmente su alcune regioni, quelle del sud Italia. Quindi è fondamentale un'azione comune come quella dei patti educativi di comunità per abbreviare queste distanze. L'ospicio dunque è fare rete per avviare un percorso condiviso. È importante creare sinergie, è importante creare una serie di, una rete sempre più diffusa di interventi.